E' un poeta che ha iniziato il suo percorso poetico un po' più avanti nel tempo, negli anni. E lo ha fatto con una capacità di cesello, se posso permettermi, con questa capacità di produzione raffinatissima che ne ha fatto nel mio cuore uno dei poeti più brillanti e migliori di questo nostro paese. E' sintomatico un'altra cosa. Egli ha un cognome che è a testimonianza di una sua vicenda familiare diverso da quello che la sua famiglia aveva dato, diciamo così, al momento della nascita. E anche questo è molto bello, perché è una testimonianza i valori in cui si crede. E non ci sono vinti e vincitori nella vita. Ci sono coloro i quali rispettano la memoria. Quindi l'ottava edizione dei ritratti di poesia motiva il premio della Fondazione Roma a ritratti di poesia a Giampiero Neri con questa motivazione. Osserva la realtà scrutandone ogni frammento con paziente e meticolosità. Sono gli esiti di questo lavoro minuzioso a formare soggetto e oggetto della sua poesia, tessitura di un teatro naturale in cui viene rappresentata allegoricamente la condizione umana. Nell'opera di Neri la natura si intreccia alla memoria e alla parola, terza ed essenziale diventa descrizione dell'esistere, traccia dell'esperienza quotidiana della vita e suo insondabile mistero. Questa è la motivazione con cui gli è stato attribuito il nostro premio. e lo sono felice di consegnarlo. Prego ora un grande artista che è Ugo Pagliai, grande amico a cui voglio molto bene. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Da l'aspetto occidentale del vestito 1976. Sta di fatto che nemmeno un bambino stava giocando sulla spiaggia quando il fronte del temporale si staccò dalla linea più lontana e cominciò a venire avanti rapidamente. Prima correndo sul filo dell'acqua solleva due pesanti ali e si nasconde in silenzio dietro banchi di nuvole e gettata all'improvviso una luce come di stella cometa ci viene incontro. Allora è tardi per rimandare le spiegazioni a un'altra volta. Guardo una mistica frana di castelli in aria. Dal liceo 1982, due tempi. La civetta è un uccello pericoloso di notte quando appare sul suo terreno come un attore sulla scena ha smesso la sua parte di zimbello. Con una strana voce fa udire il suo richiamo. Vola nell'aria notturna. Allora tace che si prendeva gioco. Si nasconde dietro un riparo di foglie. Ma è breve il seguito degli atti. Il teatro naturale si allontana. All'apparire del giorno la civetta ritorna al suo nido, al suo dimesso destino. Ritorna come un assente dopo molte prove in un improvvisato teatro. Ma il suo lavoro è dimenticato e dietro le quinte in un angolo guarda un diverso svolgimento. Dal principio alla fine è conveniente seguire ogni giustizia. da Armi e mestieri 2004, Mimesi. Delle figure dei fregi si osservano sulle ali delle farfalle e in altre specie diverse, ornamento e difesa insieme, simili a cerchi e disegni detti anche macchi e ocellari sono una varietà di mimetismo. L'immaginario occhio di Dio che guarda. Da paesaggi inospiti 2009. Di questi boschi, in partibus infidelium, è abbastanza comune la poiana, dove qualche spuntone di roccia e mozziconi di sassi che si alzano da terra qua e là offrono asilo e protezione. Volano in ampi cerchi, in un volo silenzioso, indisturbate dagli abitanti del luogo che usano dividere le specie incommestibili o non commestibili. E se commestibili, le perseguitano con ogni mezzo, se no le ignorano completamente. Dagli spalti del dosso il paesaggio si apre sulla pianura e una lontana linea di alture ne nega il confine. A una stessa ora c'è una macchia più scura fra le foglie, un battito d'ali, un volo calmo sulle cime degli alberi. La poiana che si appresta ai suoi compiti decide con una sola occhiata. Del suo volo solitario che volteggia nell'aria si riflette un'ombra nell'erba come una impronta che si staglia netta un istante prima di scomparire. Fontana del Novecento. Di quella fontana stile del Novecento che doveva durare oltre le nostre vite, si è persa la traccia, morta con la sua epoca breve. Era ridente nella sua rotondità, spensierata all'apparenza, finita chissà dove. Del poeta Remo Pagnanelli che si era ucciso avevo saputo da un comune amico. Mi pare fosse una domenica pomeriggio io stavo ascoltando l'esito delle partite di calcio alla televisione, era verso la fine del 1987. La città di provincia non doveva giovare alle sue ansie. Pagnanelli trovava compagnia in uno studio, matto e disperatissimo, come dice il suo conterraneo Leopardi, che lo allontanava di più dal mondo delle relazioni umane. A Milano, poco tempo prima, camminavamo in via Podgora e avevamo sentito il frammento di un discorso fra due ragazze, poco più che bambine. Ma a te piace vivere? Aveva chiesto una. A me no, rispose l'altra. Pagnanelli si era voltato verso di me dicendo hai sentito? Eravamo stati un po' in silenzio. Da qualche tempo, forse un paio di mesi, mi capitava di incontrare un signore anziano che faceva il mio percorso in senso inverso. Alla sera verso le nove durante la passeggiata con il mio cane Lilli nella grande piazza alberata, questo signore mi veniva incontro e nel superarmi mi salutava. Buonasera. Al che io rispondevo con raddoppiata energia. Buonasera. Non mi sembrava di averlo mai visto prima. Piuttosto piccolo di statura, come raccolto su se stesso. Quella volta l'avevo fermato. Non ci conosciamo, gli avevo detto. E lui di rimando, abito qui da 33 anni, anch'io, più di 40, senza stupirmi di non conoscerlo. Milano è una città che va di fretta, come diceva il poeta Marinetti, e non invoglia nuove conoscenze oltre quelle che si hanno per motivi di lavoro. Ci eravamo fermati sulla corsia dei grandi platani e ci davamo le notizie essenziali. Sono del 32, aveva detto lui. Un giovanotto, avevo commentato io, che sono del 27. Lavoro ancora. Ho uno studio di avvocato, aveva aggiunto. Io scrivo invece. Scrivo poesie, avevo detto, per quanto mi sembrasse strano in quel momento. Eravamo passati ai consigli. Il vino? Un bicchiere al pasto. Tutto con moderazione, da parte sua. Alla fine ci presentammo. Mi chiamo Neri, aveva detto. Ma anch'io mi chiamo Neri, avevo risposto interdetto. Non l'ho ancora rivisto, l'avvocato Neri. Volevo chiedergli qualche consiglio. Non so perché mi sembra un uomo saggio, ma qui a Milano basta girare l'angolo e non si conosce più nessuno. E l'avvocato Neri? Chi lo conosce? Grazie. 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 Buongiorno. Ma io ho inteso la poesia soprattutto come conoscenza. Sicché prima come lettore ho cercato di capire quello che voleva dire un autore, il suo mondo, anche il motivo per cui scrivesse. E poi, quando ho cominciato a scrivere improprio, ho continuato su questa linea nel senso che ho cercato la mia verità, ho cercato di capire quello che mi era accaduto. Mi sono occupato soprattutto del tema dell'aggressività. Passo per un poeta che si occupa di storia naturale, di zoologia. Ma in realtà sono, diciamo così, maschere del mio lavoro. Il quale lavoro invece si incentra proprio su questo tema del male. Perché c'è questa aggressività? l'aggressività. E poi ho fatto anche delle scoperte. Ho scoperto che il bene del lupo è il male della pecora. Ma viceversa, anche il male della pecora è il bene del lupo. Sicché c'è qualche cosa di ambiguo nella natura, di ambivalente. E che quindi alla fine, come nei bilanci, alla fine il conto torna. Basta, non credo di poter aggiungere altro. Vorrei continuare ancora su questo tema. Mi sono avvicinato di più, negli ultimi tempi, a una prosa che guardasse alla poesia. Più che a una poesia in senso stretto. Ma in fondo, la poesia cos'è? Per Paul Celan, la poesia è anche una stretta di mano. La poesia vuole comunicare. La poesia vuole affratellare, in fondo. Sente che siamo somos hermanos, come dicono gli spagnoli. E che quindi anche la guerra sotterranea, che si fanno i poeti lascia il tempo che trova. C'è qualcosa di più importante. Ed è appunto la ricerca di quello che siamo, di quello che rappresentiamo, delle nostre maschere sul teatro della vita. Grazie. 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 Grazie.